Un'altra piccola nota di speranza, adesso ne parliamo, è un asilo nido privato che si trova proprio tra quelle case. È un asilo nido privato ma frequentatissimo, insomma accoglie bambini piccolissimi, forse stanno provvedendo a chiedere la convenzione con il Comune, adesso vedremo gli esterni, eccoli qua, e gli interni. Una struttura che funziona, Presidente, in questo caso. Sì, devo dire che io sono per principio favorevole anche al principio della sostituità orizzontale, cioè facciamo fare ai cittadini quello che possono fare, alle imprese quello che possono fare meglio e in sostituzione dei comuni. Questo è un esempio, meno male che c'è l'iniziativa privata, altrimenti se aspettiamo gli asili nido previsti nei piani di zona, nel piano di sviluppo urbanistico, lì i cittadini sarebbero disperati. Meno male che c'è giovani, in questo caso è un'impresa veramente fatta da donne e giovani, meno male che ci stanno le persone che si mettono in gioco in un periodo ancora così difficile e ci danno l'opportunità di offrire servizi che altrimenti non potremmo garantire. Ecco, è importante che l'iniziativa privata si sostituisca a quella pubblica, visto anche come stanno messe le casse del Comune di Roma. Anche perché altrimenti questi genitori, queste famiglie sarebbero costretti a spostarsi come succede spesso. Più avanti hai visto quale strada debbbero percorrere, a quanta distanza stanno i primi servizi che il Municipio o il Ventesimo o il nostro possono offrire a questi cittadini. Lo abbiamo visto. Tra l'altro molte persone non conoscono neanche, che stiamo parlando di un quartiere, l'ha accennato lei, Pianza Coccia esiste e si trova proprio qui. Dopo l'Olgiata, insomma, siamo in questa zona della Bracianese. Un'altra struttura che abbiamo incrociato su via Paravia è una scuola materna, in questo caso una scuola materna dell'infanzia. Qui ci vogliamo far spiegare un po' meglio dal Presidente perché questa scuola ha attraversato una serie di vicende, forse in via di risoluzione, però forse il Presidente ci può aiutare meglio anche in questo caso. Noteremo sempre le innovative strisce pedonali bianche e blu davanti all'ingresso della scuola e poi vedremo la struttura. Prego, Presidente. Ah sì, eccola, qui siamo. Questa è la scuola Sant'Isidoro. Sì, certo, le strisce per motivi di sicurezza abbiamo messo quelle che si vedono. Adesso stiamo fondi permettendo, stiamo pensando, cominciando proprio dalle scuole, di mettere anche la segnaletica luminosa come deterrenza, la velocità. Qui faccio un appello, qui i cittadini lamentano il fatto che chi va a abitare là non sa forse che lì c'è una scuola e corrono. Per cui voglio dire, l'alternativa non è, perché pure questa via qua, via Paravia, quando siamo arrivati era completamente devastata. Era tutta una buca. Era una stradina agricola. Devo dire che paradossalmente, avendola ristrutturata, oggi le macchine corrono di più proprio perché ci si può correre. E' il paradosso appunto che dovremmo mettere dei dossi per rallentare il traffio. Ecco, Sant'Isidoro, questa è la materna statale, è in capo al municipio per l'edilizia scolastica e la direzione però sta nel ventesimo. Ecco, io ve l'ho fatta inquadrare perché vorrei anche qui rassicurare i genitori. La vicaria della scuola, perché la dirigente scolastica è comandata al ministero, preoccupata perché ha visto delle transennature interne, ha chiesto garanzia che ci esistessero le condizioni di sicurezza. Ebbene, il municipio le ha date con gli stabili pericolanti e con la perizia dell'ingegnere. Spero che la vicaria appunto soprassieda dalla minaccia che ha fatto che entro dieci giorni avrebbe chiuso la scuola se non avesse avuto le garanzie di sicurezza per i bambini. La preoccupazione è legittima, però noi non le sicurezza gliel'abbiamo data. C'è qualche genitore agitato, o almeno che era agitato in questi giorni. Speriamo che il fatto che ormai sia passata questa settimana un po' complicata. Spero che gli animi si siano rasserenati perché non vorrei che l'amministrazione fosse costretta per tutelare i cittadini di intervenire pesantemente. Anche perché qualcuno potrebbe decidere di intervenire con una denuncia per procurata allarme, caso mai le preoccupazioni insistenti risultassero infondate. E allora responsabilità maggiore da parte di tutti, soprattutto dall'amministrazione che deve garantire la sicurezza dei propri alunni e delle proprie maestranze, ma soprattutto capacità di intervento anche da parte della diligenza scolastica. No, no, poi se ci dice che gli animi vanno tranquillizzati, cerchiamo di tranquillizzarli. Cioè qui nessuno vuole sottovalutare l'importanza delle cose dette e delle affermazioni fatte. E che di fronte alle garanzie, voglio dire, uno deve stare tranquillo. Poi il terremoto è sempre possibile, però voglio dire, le condizioni di sicurezza, certificati alla mano, sono garantite.